ANIMALS 4 eh aaah ehh eh, eh ...anziato da quando facevo animatore nei vari villaggi turistici eh aaah eh eh aaah fare un'esperienza eh eh A me piace aaah e se portare poi eh aaah aaah io sono una persona seria ma pensiamo a cose serie a me piace tutto si è molto movimentare e pensiamo a cose serie a me qui su Radio Milan Inter 96.1 Animal Sport